Simio Marioni, amministratore di aziende e materie plastiche nella provincia di Torino. Apro la posta elettronica il 2 gennaio e vedo con grande dispiacere che fra tutte le cose che questo governo poteva fare ha prodotto alcune leggi. Con la 147 cambiano in aumento ovviamente la Liquidity IMSS per tutti i professionisti senza partita IVA. Senza nessun avvertimento tutti i nostri budget, tutti i nostri programmi sono cambiati. In caso di superamento di certi limiti di straordinario, sto parlando di 8 ore di straordinario, non di 24, ci sono sanzioni che arrivano fino a 50.000 euro. Non è questo quello di cui noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno che cambi la mentalità, che questo paese diventi un paese libero dove poter fare impresa.